Perché l'hanno coperto, ma via tutto abbiamo il Piorregioia, era Naviglio Martesano, partiva da un pochino più avanti e andava a Cassano d'Adda, questa parte di città l'hanno coperta. Conca delle Gabelle, quella lì che vedete vicino al fonte, si chiama Conca delle Gabelle perché si pagava le tasse, quando arrivava poi il materiale da Cassano d'Adda, la gente lasciava giù i soldi.